Parliamo di quell'angolo. Alla grande finestra scorrevole, abbiamo aggiunto delle tende alte fino al soffitto, scegliendo una tonalità di colore che si albinasse bene al colore degli armadietti della cucina. La zona pranzo mi ha sorpresa. Onestamente non sapevamo cosa farcene di quello spazio, ma è venuto benissimo. Questo intonaco riprende quello della cappa aspirante. E infine abbiamo una lanterna di nickel lucido. Lo stile generale è più rustico e costiero, ma qui hai aggiunto anche un po' di glamour. Sì, esatto. Sono felice che tu abbia conservato il vecchio pavimento e sia riuscita a integrarlo con tutto il resto. E poi sembra quasi guidare lo sguardo in direzione dell'oceano. Anche se il panorama è lo stesso, non è mai sembrato così bello. Grazie, siamo davvero felici che abbiate deciso di venire da noi e abbiate reso la nostra casa così bella. Siete una coppia bellissima. E' un esempio da seguire, perciò è stato un piacere. Ci avete regalato il nostro sogno californiano con un bel fiocco sopra. Un bel fiocco.